Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'infobox. Ringrazio Fiscozen per aver collaborato alla realizzazione di questo video, ma ne parleremo tra poco. Nel video di oggi voglio parlarvi di uno dei più grandi casi di rapimento di massa nella storia degli Stati Uniti. Ora voglio rispondere a una domanda che qualcuno di voi di tanto in tanto mi pone. Alcune di voi infatti mi hanno chiesto sia qui su YouTube che in privato su Instagram se questo è il mio unico lavoro. Ebbene sì ragazze e ragazze, mi mantengo grazie a YouTube e ho anche alcuni collaboratori che mi danno una mano perché se facessi tutto da sola non avrei più tempo libero. Ho iniziato a fare video su questa piattaforma ormai 5 anni fa e ovviamente ho dovuto aprire la mia partita IVA. Se anche voi lavorate con la partita IVA oppure volete lanciare un nuovo progetto e aprirla, vi consiglio personalmente Fiscozen perché può aiutarvi a gestirla al meglio. Tutti i miei collaboratori hanno scelto Fiscozen che gli ha davvero semplificato la vita perché si sono affidati a loro per la gestione della partita IVA. Fiscozen è un servizio che vi offre un commercialista dedicato e un'app per gestire la vostra partita IVA online. Vi aiuteranno ad aprirla gratuitamente e a gestirla nel tempo. La cosa davvero vantaggiosa è che avrete un commercialista al vostro fianco che vi aiuterà e sarà specializzato nella vostra professione. Sarà il vostro unico consulente e potrete contattarlo via chat, email o telefono. Vi risponderà in pochissimo tempo e sarà completamente a vostra disposizione per chiarirvi qualsiasi dubbio o perplessità. Come vedete l'applicazione di Fiscozen è facilissima da utilizzare. Potete creare ed emettere fatture elettroniche con pochi clic e i modelli, oltre a essere semplici, sono anche precompilati. Potrete inoltre calcolare le tasse e i contributi in tempo reale su ogni fattura che incassate in automatico. Così saprete sempre quanto dovrete pagare l'anno successivo e le notifiche dei pagamenti. In questo modo avrete tutto sotto controllo e potrete gestire il vostro lavoro e le vostre entrate al meglio. Inoltre avendo tutti i documenti precompilati vi lascerete alle spalle la preoccupazione di commettere qualche errore e anche la dichiarazione dei redditi è guidata. Dovrete solo inserire i documenti necessari. In sostanza non dovrete preoccuparvi di nulla perché Fiscozen ci penserà per voi. Questo servizio inoltre vi permetterà di avere consulenze fiscali gratuite illimitate. Se volete richiedere una consulenza gratuita e senza impegno cliccate nel link in descrizione o in quello bloccato nel primo commento. Grazie al mio codice OCCIOCRIPY50 avrete 50 euro di sconto sul primo anno di servizio. E ora iniziamo con il caso di oggi. Frederick Wood, detto Fred, nasce il 15 ottobre 1952 a Portola Valley in California dove vive con i genitori il padre Fred Senior e la madre Harriet. La famiglia di Fred è ricca da generazioni, pare avesse antenati prestigiosi e Fred Senior ha ereditato un cospicuo patrimonio dei parenti. Inoltre lui stesso è un uomo d'affari di successo. I Woods vivono in una prospera comunità sulle montagne di Santa Cruz e Fred Junior vive come un bambino privilegiato perché la sua famiglia non è soltanto ricca ma anche molto potente. Tuttavia Fred cresce piuttosto isolato, è timido e un po' goffo, fatica a fare amicizia e spesso i coetanei lo prendono in giro. Quando Fred ha sei anni viene alla luce la sua sorellina ma lui presto non potrà vederla mai più perché i genitori, siccome la piccola è affetta dalla sindrome di Down, preferiscono affidarla alle cure di un'altra famiglia. Non sappiamo neanche come si chiami questa bambina. Dunque Fred continua a crescere da solo, anche quando è a casa non passa molto tempo con i genitori perché loro non si preoccupano davvero di lui, non lo mettono mai al primo posto tra i loro impegni. Fred Sr. e Harriet sfruttano la propria ricchezza per soddisfare soltanto i loro desideri. Si divertono, viaggiano in giro per il mondo e lasciano Fred Jr. alle cure dell'etate per mesi interi. Il bambino non stringe mai un legame forte con la mamma e il papà e questo lo si capisce semplicemente guardando le foto appese in tutta la casa che immortalano i numerosi viaggi fatti dai suoi genitori ma dove il piccolo Fred non appare mai, a meno che non figuri in qualche fotografia dove è ritratto da solo. Quando Fred diventa adolescente si mette in testa un solo proposito, essere accettato da suo padre. Tutti quegli anni in cui è stato trascurato lo hanno messo a dura prova e ora il ragazzino vuole che suo padre gli dimostri affetto. Ma Fred Sr. fa esattamente l'opposto, ribadendo al figlio che non sarà mai all'altezza di portare il nome della famiglia Woods e che non conseguirà mai il successo che lui ha conquistato. Più viene screditato, più giovane Fred desidera l'approvazione di suo padre, una soddisfazione che però non potrà mai provare. Tanto per cominciare, nonostante si sforzi, Fred non riesce a ottenere a scuola i voti più alti e suo padre non perde occasione per mostrargli la propria delusione. Inoltre è convinto che il figlio non riuscirà nemmeno a trovare un lavoro valido da solo. Beh, questo accade anche perché Fred Jr. non ha quella spinta motivazionale sufficiente che lo incentivi a costruirsi un futuro passo dopo passo, grazie alla fatica e all'impegno personale, dato che gli è sempre stato dato tutto senza che lui avesse nemmeno il bisogno di chiederlo, fin dalla nascita. Quindi perché dovrebbe possedere quella grinta, quello slancio che suo padre brama tanto di scorgere in lui? Arriviamo all'inizio degli anni 70, quando Fred ha 19 anni. Ha ormai terminato la scuola superiore e decide di sposarsi con la sua fidanzata del liceo. Il matrimonio viene celebrato, ma è destinato a naufragare ben presto, perché Fred è molto egoista e pigro. Non lavora, si sostiene grazie all'assegno mensile che gli dà suo padre, ma con i soldi ricavati compra solo cose per se stesso. Non pensa minimamente né alla moglie né alla casa che condividono. Fred acquista sempre più macchine, ha la casa piena di oggetti d'antiquariato e di cose che nemmeno rivestono un gran valore per lui. Infatti le compra soltanto per assecondare la sua smania di spendere soldi. Questo però non è l'unico aspetto che rovina il matrimonio, perché Fred moltiplica i problemi comportandosi in modo fin troppo sociale. Non va d'accordo con nessuno, non apprezza la sua famiglia, non amici e in realtà neanche sua moglie gli piace poi così tanto. Dunque conduce ancora una vita isolata e nel caso in cui qualcuno entri nella sua proprietà, lui è capace di prendere il fucile e sparare sopra le teste dei malcapitati per spaventarli. Un giorno mentre si trova nei campi vicino a casa sua, Fred trova un cadavere. Una persona normale alla vista di un corpo senza vita, riverso a terra, probabilmente sarebbe assalita dal panico, ma non Fred. Lui è elettrizzato dall'aver fatto questa macabra scoperta. Sua moglie lo guarda sconvolta, si chiede chi mai potrebbe essere euforico in una situazione del genere. Ecco, questa per lei è la goccia che fa traboccare il vaso, quindi chiede il divorzio. Nonostante il menefreghismo che Fred ha dimostrato nei confronti della moglie, lui fa comunque fatica ad andare avanti perché considera il divorzio come un fallimento. È molto amareggiato, si isola ancora di più e non riesce proprio a trovare un lavoro. Così all'età di 22 anni non gli rimane altra scelta che lavorare per una delle attività di suo padre, la California Rock and Gravel Company, fornitrice di sabbia, ghiaia e calcestruzzo, quindi è un impiegato in una cava di roccia. In questo periodo Fred inizia a frequentare i due fratelli di nome James e Richard Schoenfeld, detti Jim e Rick. Vi parlo di loro perché sono entrambi altri protagonisti di questo caso. Jim e Rick nascono all'inizio degli anni 50. Jim è più grande di Rick di due anni. Anche i fratelli Schoenfeld crescono conducendo una vita da privilegiati. La loro famiglia non è ricca quanto quella di Fred. Infatti ha dismesso alcuni business portati avanti per generazioni, ma è comunque un nucleo benestante. I genitori dei due fratelli sono persone di successo e anche Jim e Rick provengono da una comunità prestigiosa che si colloca appena fuori da San Francisco. Sono entrambi molto viziati, tuttavia la madre e il padre hanno dato loro maggiore considerazione se paragoniamo quanto avvenuto tra Fred e i propri genitori. I due fratelli e Fred in realtà hanno anche frequentato la stessa scuola superiore, ma ai tempi del liceo lui non era un loro amico. Tuttavia Fred si ricorda di loro e nel 1974 contatta Jim per chiedergli se può aiutarlo a riparare qualche auto usata. Jim accetta e chiede a Fred se possono avvalersi anche della collaborazione di suo fratello minore a Rick. Ora Fred e Jim hanno 22 anni, mentre Rick ne ha 20 e da questo momento si riavvicinano diventando ottimi amici. Ma non solo. Dopo non molto tempo i tre decidono di aprire un'attività di auto usate insieme. Condividono intere giornate, ma più passa il tempo più le loro conversazioni assumono contorni oscuri. Tra gli argomenti che affrontano fioccano le lamentele sulla durezza delle vite che hanno vissuto, con questi genitori mai soddisfatti e orgogliosi di loro, ma sempre pronti a esprimere delusione. Tra l'altro, secondo i tre giovani, i genitori non danno loro abbastanza soldi. Parliamo quindi di tre ragazzi ricchi che pretendono di avere tutto e pensano pure di meritarselo. Preferirebbero non lavorare, visto che, in teoria, non dovrebbero averne bisogno, dato che i loro genitori sono ricchi. Ma è proprio in questo periodo che i genitori li tagliano fuori dai loro conti. Si rifiutano di allargire altro denaro, perché i ragazzi sono troppo pigri e disinteressati a coltivare seriamente dei traguardi e dei guadagni personali. Così il trio, al posto di dedicarsi all'attività messa in piedi o di cercare un nuovo lavoro più appagante, decide che i soldi le ruberà. Iniziano rubando delle auto e rivendendole, riuscendo a ottenere un buon bottino. A questo punto i tre pensano di non avere realmente bisogno dei genitori. Possono cavarsela anche da soli, no? In realtà le loro aspettative sono presto deluse, perché vengono scoperti, arrestati e accusati. Ma i loro ricchi genitori intervengono e i delinquentucci vengono rilasciati su cauzione. Quindi i ragazzi pensano di averla scampata e si sono pure divertiti. Ignorano il fatto che senza il salvagente lanciato dai genitori sarebbero rimasti dietro le sbarre per un bel po' di tempo. Ma loro preferiscono non pensarci e, anzi, alzare l'asticella facendo qualcosa che consenta loro di guadagnare ancora più soldi. A questo scopo tutti e tre investono del tempo guardando diversi film incentrati su rapimenti, rapine in banca e azioni criminali simili. Commentando che, quando si mette in atto un sequestro, vengono richieste grandi cifre per il riscatto dell'ostaggio. Come vi ho sottolineato, nonostante questi ragazzi siano cresciuti nell'algio, non lo riconoscono fino in fondo. Bramano ancora di più e pensano pure di poterla fare franca. Tra loro si scambiano reciproci complimenti e incoraggiamenti, pur essendo già stati beccati. Onestamente, i loro sembrano dei deliri, è come se non vivessero nel mondo reale. Per loro, commettere un rapimento o una rapina è un modo efficace per diventare ricchi velocemente. Diciamocelo, probabilmente all'inizio ci scherzano su, ma presto l'immaginazione si converte nell'elaborazione di un piano. Dopo varie riflessioni e interrogativi su come procedere, a Fred viene in mente un'idea. Cioè, è più conveniente rapire dei bambini. Questo sì che gli farà guadagnare un sacco di soldi. Per salvare i propri piccoli, i genitori pagherebbero qualsiasi cifra. Ed ecco che il piano diabolico inizia a prendere forma. Fred si pone proprio al vertice del trio, per quanto sia un leader antisociale e per nulla carismatico. Eppure riesce a manipolare particolarmente Jim. Se Fred avesse detto a Jim di saltare da un precipizio, lui non solo avrebbe consentito, ma gli avrebbe anche chiesto da quale altezza preferisci che lo faccia. A sua volta, Jim riesce a esercitare un certo controllo su Rick, il fratello minore. Per tutto l'anno successivo, Fred esorta i fratelli a studiare affinché il crimine risulti perfetto. Hanno deciso di rapire dei bambini, ma non hanno la minima idea di come fare. Arriviamo alla fine del 1976, quando il trio è convinto di aver ideato il piano perfetto. Vogliono sequestrare uno scuolabus pieno di bambini, tenerli in ostaggio e chiedere 5 milioni di dollari per il riscatto. Sono assolutamente convinti di aver messo a punto ogni dettaglio. Nulla può andare storto e avrebbero ottenuto i soldi che desiderano. È il 15 luglio del 1976, una giornata a Fose in California, con una temperatura che supera i 40 gradi. È anche il penultimo giorno di scuola estiva per i bambini che frequentano la Dairyland Elementary School di Chowchilla. Chowchilla è una piccola cittadina rurale che dista oltre 100 miglia da San Francisco, abitata da una comunità molto unita dedita soprattutto all'agricoltura. Tutti si conoscono, il posto è molto sicuro e tranquillo, vi si vive serenamente, con un senso di estraneità rispetto ai pericoli delle grandi metropoli. I bambini che frequentano la scuola elementare solitamente prendono l'autobus che li porta a scuola, svolgono le loro attività e al termine delle lezioni risalgono sul pullman per tornare a casa. Ma durante il periodo estivo è diverso perché dopo aver fatto i compiti per le vacanze in mattinata, nel pomeriggio gli scolaretti vengono portati in gita o a nuotare. Il 15 luglio 1976, trascorse alcune ore in piscina, i bambini alle 16 vengono prelevati dallo scuolabus per essere riaccompagnati a casa. L'autista è il 50enne Ed Ray che guida questo scuolabus da decenni, infatti tutti lo conoscono. Ray fa d'autista anche ai genitori quando devono raggiungere la scuola per le riunioni o altre esigenze, dunque è un uomo stimato dalla comunità, una persona amichevole che tutti adorano. Quel pomeriggio i bambini salgono a bordo dei bus tutti contenti del tempo speso in piscina, si sono divertiti e ora canticchiano insieme i loro brani preferiti. Ma tutto sta per cambiare. Ed, sempre alla guida dello scuolabus, ha già effettuato un paio di fermate, quindi alcuni bambini sono già scese dal pullman. Poi il conducente si dirige verso una strada sterrata secondaria con a bordo ancora 26 scolaretti. Il percorso è poco trafficato finché Ed nota un furgone bianco dall'altra parte della strada che blocca il passaggio. L'autista pensa che i proprietari del furgone abbiano avuto un guasto al loro mezzo e che abbiano bisogno di aiuto. Come detto nella comunità di Chaucilla, tutti sono sempre pronti a darsi una mano, comportandosi in modo molto amichevole. Dunque Ed rallenta fino a fermare lo scuolabus davanti al furgone. Allora tre uomini minacciosi saltano fuori dal veicolo, portano dei collant sul viso, quindi i loro lineamenti sono distorti e imbracciano tutti e tre un fucile che puntano immediatamente contro Ed. Tenendolo sotto tiro gli gridano se pensi di fare retromarcia ti spareremo. Poi gli ordinano di aprire la porta dello scuolabus. Ed è avvilito, tre uomini armati di fucile minacciano di ucciderlo. Ovviamente ha paura che gli sparino, ma non vuole abbandonare i 26 bambini a bordo dello scuolabus. Infine, pensa, se mi limito a obbedire, forse nessuno si farà male. Ed decide di aprire la porta dell'autobus. Allora Fred, Jim e Rick ci salgono sopra. I bambini appena li vedono irrompere sul pullman con le facce camuffate dai collant e le armi al seguito si terrorizzano. L'età dei ragazzini è mista, va dai 5 ai 14 anni, ma la maggior parte ha tra gli 8 e i 10 anni. Insomma, sono così piccoli. Posso solo immaginare lo spavento che devono aver provato in quel momento, dato che anche qualsiasi adulto sarebbe sbiancato. I trasalitori agitano i fucili e dicono ai bambini è meglio che tutti facciate ciò che vi viene detto. Lasciano intendere ai giovani scolari che gli spareranno se non seguiranno le loro istruzioni. Ovviamente i bambini iniziano a urlare, ma Fred grida più di loro, pretendendo che stiano tutti zitti. Dato che ha in mano un fucile, tutti gli danno retta e ora Fred sente finalmente di avere il pieno controllo della situazione. Così ordina Ed di alzarsi dal posto di guida e di dirigersi in fondo all'autobus. L'autista obbedisce, mentre cammina cerca di rassicurare i bambini, sorridendogli, sussurrando andrà tutto bene o dando loro una piccola pacca sulle spalle. Ed sta cercando di confortarli senza però far arrabbiare i tre uomini armati. Jim si siede al suo posto, sul sedile del conducente. Fred si posiziona davanti, ma rivolto ai passeggeri, stringendo tra le mani il fucile che punta addosso ai bambini, o Ed. Rick, invece, scende dallo scuolabus e risale sul furgone bianco. Jim mette in moto lo scuolabus, mentre Rick lo segue a bordo del furgone. 26 bambini e un adulto sono appena stati rapiti. La prima parte del piano prevede di abbandonare lo scuolabus, dato che non passa assolutamente inosservato. Se qualcuno vedesse quel grande pulman giallo muoversi su strade insolite, probabilmente si insospettirebbe. I rapitori guidano per circa 25 minuti fuori da Ciaucilla, finché arrivano sulle sponde di un fiume prosciugato, dove l'alveo è completamente ricoperto da altissime piante di bambù. Sono talmente alte che possono nascondere lo scuolabus, quindi Jim, in accordo con Fred, si addentra tra le frasche. All'inizio della giornata i sequestratori avevano già piazzato in questa piantagione di bambù un secondo furgone per trasportare altrove i 26 bambini e Ed. Quindi, appena lo scuolabus è completamente nascosto, i furgoni vengono parcheggiati davanti alle porte del veicolo, di modo che Ed e i bambini, uno per uno, possano entrarvi dentro senza nemmeno sfiorare il terreno con i piedi. I rapitori hanno infatti pianificato di non lasciare alcuna prova, tanto meno delle impronte lungo il sentiero. Cerco di nuovo di farvi immaginare quanto potessero essere terrorizzati questi bambini. Loro non hanno la minima idea di cosa stia succedendo, né di cosa gli aspetti su quel furgone. Per quanto ne sanno, stanno camminando dritto verso la morte. Quella deve essergli sembrata la traversata più lunga della loro vita. Gli interni dei due furgoni sono stati modificati per essere completamente oscurati, i finestrini sono stati verniciati e ogni punto in cui potrebbe filtrare la luce del sole è stato coperto. Ci sono anche dei pannelli di legno inseriti negli abitacoli per rafforzare la barriera contro l'esterno, dunque questi furgoni sono delle prigioni immobili. Una volta che tutti gli ostaggi sono dentro, il portellone sul retro viene chiuso e loro restano completamente al buio. Quel tipo di buio che sembra stia per inghiottirti da un momento all'altro. Ed è riuscito a vedere l'interno dei furgoni solo per poco, ma gli è bastato per capire che non ci sono dubbi. Quello è un rapimento a tutti gli effetti. Ovviamente non dà conferma ai timori dei bambini, ma cerca ancora di rassicurarle e gli ripete che tutto andrà a finire bene. Mentre i sequestratori guidano i due mezzi, né i bambini né Ed hanno quindi modo di vedere dove siano diretti. Intuiscono di trovarsi su una strada sterrata e che poi il furgone inizia a viaggiare sull'asfalto. Il tragitto è lunghissimo, passano delle ore e come detto è luglio, le temperature sono alle stelle. Ci sono 13 bambini in un furgone e altri 13 più Ed nell'altro. Fa un caldo soffocante lì dentro, non c'è aria né luce, mancano cibo e acqua. I bambini iniziano a stare male, non riescono a respirare bene, si sentono svenire e presto alcuni di loro cominciano a vomitare. Come detto, il furgone viaggia per ore senza mai fermarsi e naturalmente i bambini avvertono la necessità di andare in bagno. Allora Ed li incoraggia a fare i bisogni al centro del furgone. Lui e i ragazzini più grandi cercano di distrarre e confortare i più piccoli. Dicono loro che va tutto bene e gli esortano a intonare una canzone e così qualcuno inizia a cantare Se sei felice e tu lo sai, batti le mani. Ma sostituiscono la parola felice con triste e quindi cantano Se sei triste e tu lo sai, batti le mani. Niente quindi può rallegrare o calmare questi bambini che rimarranno intrappolati nei furgoni per un totale di 12 ore. I rapitori si fermeranno a metà strada per fare benzina ma non permetteranno agli ostaggi di uscire. Nel frattempo a Ceuscilla i genitori sono disperati per la scomparsa dei loro figli. Lo scuolabus aveva sempre riaccompagnato i bambini a casa in perfetto orario dunque sono tutti nel panico. La scuola è stata inondata dalle telefonate dei genitori che chiedevano dove fossero i loro figli e Ed. All'inizio tutti hanno pensato che lo scuolabus avesse subito un guasto magari gli si era sgonfiata una ruota a nessuno ha sfiorato l'ipotesi che i bambini e Ed potessero essere stati rapiti. Una squadra di ricerca sta perlustrando la zona per rintracciare lo scuolabus ma nessuno riesce a trovarlo. Sembra sparito. Non è in panne sul ciglio di qualche strada come qualcuno si aspettava e sembra impossibile parlare con Ed visto che non si trova a casa. Vi ricordo che siamo negli anni 70 e le persone coinvolte in questo caso non hanno i cellulari. La polizia continua a cercare lo scuolabus senza successo ma poi verso le 19.30 più di tre ore dopo l'orario in cui avrebbe dovuto completare il giro il pullman giallo viene individuato nel campo di bambù grazie alle ricerche condotte dall'alto con un elicottero. Ma la situazione non è confortante perché il veicolo è vuoto. Dove sono finiti i bambini Ed? Chi lo ha abbandonato lì lo scuolabus? Per i genitori l'incubo si fa ancora più tetro ma la polizia ha la convinzione che siano ancora tutti vivi perché vicino allo scuolabus individua le tracce degli pneumatici di due furgoni. La polizia intuisce che si tratta di un rapimento a scopo di riscatto e le autorità sono abbastanza tranquille pensano ci sia una buona possibilità che i ragazzini tornino a casa sani e salvi ma non possono averne la certezza quindi decidono di coinvolgere le FBI 30 agenti dell'FBI vengono quindi inviati a Ciocilla e ben presto si diffonde a livello internazionale la notizia che 26 scolari sono stati rapiti nel frattempo i rapitori e gli ostaggi procedono verso nord percorrendo 100 miglia per raggiungere una cava di roccia la stessa cava di roccia che possiede il padre di Fred in realtà per raggiungere il posto non sono necessarie 12 ore di viaggio ma i sequestratori dovevano assicurarsi di arrivarci a notte fonda quindi invece di fermarsi da qualche parte e aspettare hanno continuato a vagare in attesa che calasse il buio sono le 4 del mattino non c'è nessuno a quell'ora nella cava di roccia nessuno che possa intralciare i loro piani i due furgoni si fermano davanti a una grossa voragine scavata nel terreno e all'interno della fossa è inserita una scala che conduce sottoterra Fred apre il furgone in cui si trova Ed e lo trascina fuori poi richiude la portiera Fred vuole tenere Ed sotto controllo dato che è un adulto e rappresenta la minaccia più grande nel portare a compimento l'intero piano Ed è stordito e confuso si guarda intorno mentre Fred gli ordina di scendere la scala posizionata nella cavità per arrivare sottoterra Ed continua a obbedire agli ordini dei tre rapitori è terrorizzato e teme che se si ribellasse loro potrebbero uccidere i bambini sente di non avere altra scelta quindi scende la scala fino a sbucare sul fondo in una grande stanza sottoterra come diavolo ci sono finito qui si domanda Ed sbigottito consapevole di aver attraversato una scala che penetra in un buco si rende conto di trovarsi all'interno di un rimorchio metallico per camion che è stato seppellito mentre Ed è intrappolato in questa prigione sotterranea il trio di rapitori tira fuori i bambini dai furgoni uno per uno in pratica aprono la portiera del furgone afferrano un bambino e lo trascinano all'esterno prima di richiudere la portiera lasciando gli altri scolaretti nella completa oscuretà ogni bambino una volta cavato fuori si ritrova con un fucile appuntato contro e gli viene chiesto il suo nome completo l'indirizzo di residenza e il numero di telefono ovviamente quello di casa poi i rapitori chiedono al bambino di turno di togliersi un capo di abbigliamento e consegnarlo a loro devono usarlo come prova da mostrare ai genitori per la richiesta di riscatto ottenute le informazioni e l'indumento ogni ragazzino viene costretto a scendere la scala per arrivare alla prigione sotterranea tornando all'angoscia da loro provata vi ricordo che alcuni di questi bambini hanno appena 5 anni vengono trascinati fuori dai furgoni uno alla volta dopo essere rimasti lì dentro per 12 ore senza nemmeno mangiare probabilmente anche disidratati di certo confusi dunque i furgoni mano a mano si svuotano e i bimbi che ancora vi rimangono dentro non hanno la minima idea di cosa stia accadendo ai compagni trascinati all'esterno per quanto ne sanno loro potrebbero essere stati uccisi disperati si aggrappano alla fiancata del furgone sperando che i rapitori li risparmino ma finiscono tutti sotto terra nel rimorchio una volta qui decidono di esplorare i dintorni c'è una piccola luce accesa non serve a granché ma di certo è meglio dell'opprimento oscurità del furgone ci sono anche alcuni materassi disposti sul pavimento e dei servizi igienici improvvisati essenzialmente delle scatole di legno con un buco in mezzo c'è pure un tavolo su cui è presente una scarna quantità di cibo e acqua che forse basterà per quattro persone ma loro sono in 27 i tre rapitori a questo punto gridano a gran voce torneremo per voi ritirano la scala infilata nel buco e lo sigillano con una piastra di metallo su cui posizionano due batterie per camion dal peso di circa 45 kg all'interno della prigione sotterranea Ed e i bambini avvertono che i sequestratori stanno spalando della terra questo è il momento in cui l'autista e i ragazzini più grandi capiscono che sono stati sepolti vivi come accennato Fred, Jim e Rick hanno pianificato il rapimento per circa un anno ma come sono riusciti a organizzare il nascondiglio? avevano sfruttato un appezzamento di terreno un po' isolato che non veniva praticamente utilizzato appartenente alla cava di roccia di proprietà del padre di Fred avevano impiegato tre scavatrici per creare un buco enorme poi avevano costruito una rampa che consentiva l'accesso alla fossa dopodiché avevano comprato un vecchio rimorchio di un camion con i soldi del padre di Fred e infine l'avevano posizionato sulla rampa affinché venisse scaricato nel buco il rimorchio del camion era stato soggetto ad alcune modifiche per essere trasformato in una prigione sotterranea come l'inserimento di quella specie di gabinetti realizzati con delle scatole di legno dei vecchi materassi e di un sistema di ventilazione alquanto debole una volta implementato il rimorchio era stato seppellito completamente lasciando scoperto solo un buco oltrepassato dalla scala utilizzata per condurre tutti i bambini ed sotto terra i sequestratori sempre tacciati di essere dei buoni a nulla stavolta purtroppo hanno fatto un ottimo lavoro infatti il rimorchio non si vede per niente neanche dall'alto sono le prime ore del 16 luglio 1976 Ed e i bambini sono ormai completamente sepolti dato che anche il buco da cui sono scese nel nascondiglio è stato coperto nel frattempo il trio dei rapitori si è spostato a casa di Fred pronto a vivere il momento tanto atteso stanno per telefonare alla polizia di Chaucilla con l'intenzione di distorcere le proprie voci e formulare una richiesta di riscatto dal valore di 5 milioni di dollari Tuttavia quando alzano la cornetta per comporre il numero si rendono conto che tutte le linee telefoniche sono bloccate Ma che è successo? Beh dato che il rapimento ha fatto notizia a livello internazionale le linee telefoniche sono inondate dalle chiamate di persone preoccupate come amici parenti ma anche giornalisti ecco perché i tre rapitori non riescono a far partire la propria telefonata al momento dunque si rassegnano e progettano di pensare a un altro modo per far valere le loro richieste prima però decidono di schiacciare un pisolino insomma hanno davvero lavorato un sacco senza mai riposare hanno guidato senza sosta per 12 ore e adesso hanno proprio bisogno di una pausa così si stendono e senza il minimo rimorso si addormentano immediatamente intanto nella prigione sotterranea i bambini e Ed sono sepolti da qualche ora e le cose vanno di male in peggio non c'è nessuna via d'uscita Ed ha girovagato per il rimorchio tastando o prendendo a calci le pareti sperando di individuare un punto debole per cercare di liberare se stesso e i bambini ha spostato pure degli oggetti ma purtroppo ha concluso che l'unica via di fuga è quella da cui sono entrati nel buco intanto la prigione sotterranea sta diventando davvero soffocante il gruppo sta finendo l'acqua e il cibo a disposizione e i bambini sono in piena crisi i bagni improvvisati smettono di funzionare le scatole di legno sono piene l'odore lì sotto è insopportabile i bambini urlano e piangono anche Ed sta facendo del suo meglio per tentare di mantenerli calmi perché sa che se iniziano a muoversi freneticamente e a gridare consumeranno più ossigeno mentre i tre rapitori continuano a dormire Ed e i bambini sono ormai nella prigione sotterranea da 12 ore e la situazione può solo peggiorare diventando fatale infatti il piccolo sistema di ventilazione installato nel rimorchio smette di funzionare la ventola ha esaurito completamente le batterie quindi non viene più pompata aria fresca in quell'ambiente sotterraneo ma questo non è l'unico problema ce n'è uno ben peggiore il tetto del rimorchio sta iniziando a cedere a questo punto scopriamo che il trio di rapitori non ha poi fatto i calcoli così bene visto che ha coperto il vecchio rimorchio con un carico enorme di terra senza pensare che non ne avrebbe retto il peso per così tanto tempo come detto il tetto del rimorchio si sta frantumando nel centro Ed contiene la disperazione ma pensa che siano tutti spacciati perché non c'è una via d'uscita perché la ventilazione si è fermata e l'aria è soffocante perché la fame e la sete si fanno sempre più sentire e infine perché il peso della terra sul tetto del rimorchio rischia di farli morire schiacciati fortunatamente adesso entra in azione l'eroe di questa storia uno degli ostaggi un ragazzo di 14 anni di nome Mike Marshall lui è il più grande tra gli scolari e aiuta Ed a tranquillizzare i bambini e a razionare cibo e acqua è un ragazzino davvero coraggioso e determinato che sta affrontando una situazione difficilissima ma si ripromette che riuscirà a portare tutti fuori dal rimorchio sotterraneo sani e salvi ribadisce a Ed che devono uscire da lì e l'unico modo per evadere è farlo passando dal buco nel soffitto da cui sono entrati Mike chiede aiuto ma l'autista è titubante teme che se anche fossero riusciti a scappare all'esterno della fossa avrebbero potuto imbattersi nei tre rapitori che gli avrebbero sparato Mike quindi guarda Ed ed esclama beh che cambia se restiamo qui moriremo comunque il tentativo di fuga allora ha inizio Ed e Mike prendono tutti i materassi presenti nel rimorchio e li impilano uno sopra l'altro così entrambi raggiungono il soffitto e cercano di spingere la piastra di metallo che chiude il buco più che quest'ultima a essere davvero troppo pesante lo sono le due batterie del camion piazzate sopra la piastra che rendono quasi impossibile spostarla Mike è davvero tanto determinato nonostante sia fisicamente debilitato disidratato e affamato anche perché il cibo lo ha dato soprattutto ai bambini per cercare di calmarli ma vuole davvero uscire da lì e continua a spingere con tutte le sue forze quella piastra di metallo con l'aiuto di Ed e finalmente inizia a muoversi un pochino centimetro dopo centimetro stanno riuscendo a spostarla Ed inizia finalmente a credere di poter davvero uscire da lì e di liberare tutti i piccoli prigionieri insieme Ed e Mike riescono a spostare la piastra di metallo abbastanza da consentire a Mike di infilare il braccio all'esterno e toccare le batterie che lo sormontano in realtà inizialmente non capisce cosa siano esattamente ma Ed l'aiuta a far dondolare la piastra la inclinano e poi con fatica lentamente riescono a scostare le due batterie che i rapitori hanno posizionato lì sopra Ci sono volute ore per arrivare a questo risultato ma finalmente dopo aver allontanato le due batterie spostano la piastra metallica per consentire a Mike di passare attraverso il buco Quindi il 14enne riesce a uscire tutti i bambini cominciano a esultare sono così felici pensano di poter tornare a casa e abbracciare i propri genitori tuttavia il momento di felicità dura poco perché Mike si rende conto di non essere finito all'esterno in libertà piuttosto si trova in una scatola di legno anch'essa sepolta sotto terra sopra il buco un'ulteriore precauzione dei rapitori Mike inizia a spingere il contenitore di legno che sembra immobile Ed ormai si è quasi arreso pensa che non ci sia davvero un modo di uscire da lì che moriranno sepolti vivi ma Mike di nuovo non intende gettare la spugna loro riusciranno a evadere dal rimorchio sepolto non c'è alternativa per lui sopravvivranno dunque raccoglie tutte le forze che gli sono rimaste e continua a colpire la scatola di legno in ogni suo centimetro la prende a calci la spinge centinaia di volte finché finalmente la parte superiore della scatola quindi il tetto inizia a cedere un po' Mike incoraggiato dal risultato colpisce ancora di più ora può vedere la terra lì sopra della scatola non deve arrendersi colpisce con più foga ancora e riesce a rompere la maggior parte del legno della parte superiore della scatola poi inizia a scavare a un certo punto la terra gli si riversa addosso ma il ragazzino non si ferma continua a scavare finché un raggio di sole lo illumina e Mike inizia finalmente a respirare dell'aria fresca di certo è terrorizzato non sa se lassù ci sono i tre rapitori pronti a puntargli i fucili contro ma segue l'istinto striscia fuori da quel buco esce da quella prigione pronta ad affrontare qualunque cosa sia lì ad aspettarlo Mike quindi si solleva si guarda intorno e si rende conto che non c'è nessuno là fuori intorno a lui così grida a Ed che sono al sicuro i bambini riprendono a urlare di felicità e Ed aiuta ogni singolo bambino uno dopo l'altro ad arrampicarsi per lasciare il rimorchio sotterraneo alle 20 del 16 luglio Ed e tutti i ragazzini sono ormai fuori sono rimasti sepolti vivi per 16 ore e sono passate più di 24 ore da quando sono stati assaltati sullo scuolabus ben 27 ostaggi 26 bambini più un adulto riescono incredibilmente a scappare come nella trama di un film a lieto fine ma per loro non è ancora finita perché sono smarriti nella cava di roccia devono assicurarsi di tornare a casa sani e salvi avvertono dei rumori in sottofondo che provengono da grossi macchinari in funzione e questo li spaventa temono che i rapitori siano nei paraggi ma non hanno altre opzioni provano a dirigersi verso quel suono e per fortuna incontrano alcuni operai edili che sono ancora lì a lavorare Ed quindi urla siamo di ciaucilla abbiamo bisogno di aiuto e gli operai capiscono subito di cosa si tratta sanno bene cosa è successo che si sono imbattuti nel gruppo di bambini rapiti insieme all'autista dello scuolabus viene immediatamente chiamata la polizia i bambini e Ed vengono tratti in salve portati in una struttura sanitaria vicina affinché siano visitati bisogna accertarsi che stiano tutti bene fisicamente infine verso mezzanotte Ed e i bambini vengono fatti salire su un autobus e riportati a ciaucilla molti ragazzini erano terrorizzati all'idea di salire su un altro pullman e onestamente non mi stupisce visto che l'ultima volta sono finiti sepolti vivi in ogni caso arrivano verso le 4 del mattino alla stazione di polizia di ciaucilla dove li attendono tutti i loro genitori pronti a prenderli in braccio e a stringerli forte non abbiamo più parlato dei tre rapitori e sapete perché? perché questi geni stanno ancora dormendo si svegliano con i visi riposati la mattina dopo accendono con tutta calma la tv e vengono così a sapere che i 26 bambini Ed sono scappati Fred Jim Rick sono increduli e sono sincera avrei voluto vedere le loro facce quando si sono resi conto che tutti i bambini erano tornati liberi questi tre soggetti sono stati così tanto arroganti da credere di aver commesso il crimine perfetto penso proprio che il detto chi dorme non piglia pesci in questo caso sia particolarmente azzeccato ma l'aspetto più eclatante del fallimento del loro piano è che non sono neanche riusciti a esporre la richiesta di riscatto ovviamente ne sono felice anche perché questi tre oltre a desiderio di arricchirsi volevano sentire il brivido del controllo sapere di avere in loro potere i genitori dei bambini sequestrati comunque appena si rendono conto che il loro geniale piano è andato in fumo Fred e Jim fanno le valigie e scappano perché pensano addirittura di poter sfuggire la legge mentre Rick decide di rimanere ma di tenere un profilo basso la polizia è determinata a scoprire l'identità dei tre rapitori appreso da Ed e i bambini che Fred, Jim e Rick portavano dei collanti in faccia dunque gli ostaggi non riescono a fornire una descrizione dettagliata e completa ma questo non rallenta più di tanto le indagini e la polizia si reca al rimorchio sotterraneo in cerca di indizi e parla con gli addetti alla sicurezza della cava di roccia loro rivelano di aver visto tre uomini che qualche mese prima stavano scavando una buca molto grande e profonda e uno di questi giovani era proprio Fred Woods cioè il figlio del proprietario della cava di roccia i detective quindi indagano su Fred che ha già delle precedenti condanne a suo carico per aver rubato delle macchine e questo consente alla polizia di collegarlo immediatamente a Jim e Rick eccola la lista dei tre sospettati i detective effettuano una perlustrazione a casa di Fred e trovano una marea di prove nella sua camera da letto individuano tutti gli appunti relativi ai progetti ideati per portare a termine il rapimento scoprendo che lo stavano premeditando da almeno un anno e mezzo notano un esplicito foglio di carta con su scritto in grande e in alto la parola piano e di seguito l'elenco puntato degli step da concludere di volta in volta trovano pure una bozza della lettera di riscatto in cui è riportata la cifra che avrebbero chiesto ovvero 5 milioni di dollari la polizia a questo punto ne è certa questi tre uomini sono i responsabili del sequestro e Fred che è pure scappato nemmeno si era preoccupato di portare via con sé tutte quelle prove più tardi durante quel giorno Rick il più giovane dei due fratelli Schoenfeld si consegna da solo alle autorità mentre il fratello maggiore Jim viene arrestato mentre cerca di fuggire dallo stato dopo due settimane a Vancouver in Canada il capobanda Fred Woods viene finalmente catturato e riportato in California il caso finisce a processo tutti e tre si dichiarano colpevole di 27 capi di imputazione di rapimento a scopo di riscatto quando il magistrato chiede perché abbiano compiuto questo crimine Jim risponde che anche se provengono da famiglie benestanti sia lui che Fred sono profondamente indebitati spiega che hanno sequestrato uno squalabus pieno di bambini dicendo avevamo bisogno di più vittime per ottenere più milioni abbiamo scelto i bambini perché sono preziosi lo stato sarebbe stato disposto a pagare un riscatto per loro e soprattutto perché c'era meno probabilità che reagissero dunque questi tre individui hanno puntato sui bambini perché pensavano che valessero più soldi e anche perché li consideravano dei soggetti più vulnerabili e indifesi Fred Jim e Rick come detto si sono dichiarati colpevoli dei 27 capi d'accusa di rapimento ma si rifiutano di ammettere la propria colpevolezza in relazione a 8 capi di imputazione per lesioni personali il processo quindi richiede diverse udienze nel tempo e a distanza di 16 mesi dal rapimento alcuni bambini trovano il coraggio di fornire la loro versione dei fatti spiegando le conseguenze subite durante il tragico evento dicono che quegli uomini hanno causato loro dei danni fisici come tagli lividi e persino ustioni sul corpo raccontano che erano affamati e disidratati che c'era poco ossigeno in quel rimorchio sotterraneo quindi faticavano anche a respirare tutto questo si somma dunque al trauma emotivo che hanno patito la giuria dopo aver ascoltato la coraggiosa testimonianza di alcuni bambini e riesaminato le prove schiaccianti raccolte dalla polizia dichiara Fred Wood Jim Schoenfeld e Rick Schoenfeld colpevoli e li condanna all'ergastolo senza condizionale devo però aggiornarvi sul fatto che a seguito di un appello le loro condanne per lesioni personali sono state annullate e di conseguenza le nuove sentenze prevedono l'ergastolo con la possibilità di ottenere la libertà condizionale poi nel 2012 Rick Schoenfeld dopo aver trascorso 36 anni in carcere all'età di 58 anni viene rilasciato nel 2015 anche suo fratello maggiore Jim Schoenfeld torna libero la posizione di Fred invece è diversa perché si è scoperto che dalla prigione gestiva un'attività automobilistica illegale attraverso il fondo fiduciario dei suoi genitori inoltre era in possesso di merce di contrabbando come materiale hot e telefoni cellulari gli è stata negata la libertà condizionale per 19 volte ma nell'agosto del 2022 alla fine gli è stata concessa Fred Woods esce dal carcere all'età di 70 anni in virtù della prospera situazione economica della famiglia Woods Fred oggi è molto ricco credo che questo sia uno dei casi più folli e terribili di cui vi ho mai parlato ma a tratti è anche un po' tragicomico 27 persone sono state sepolte e vive per 16 ore e se Mike non avesse trovato il coraggio la forza e la determinazione per lottare forse sarebbero tutti morti schiacciati dal peso della terra secondo me i tre colpevoli hanno commesso questo crimine perché erano dei privilegiati annoiati della loro esistenza un po' vacua dubito che avessero ponderato a fondo le conseguenze delle loro azioni probabilmente erano convinti di farla franca di intascarsi i soldi del riscatto e spenderli a proprio piacimento se ci pensate in tutto l'arco delle loro vite i tre non si sono mai ritenuti veramente responsabili delle azioni intraprese specialmente Fred probabilmente si aspettavano che se anche la polizia li avesse catturati la mammina o il paparino sarebbero comunque riusciti a farli uscire di prigione come era già successo per il furto delle auto ma fortunatamente questo non si è verificato di nuovo e nonostante lo sconto sulla pena iniziale inflitta tutti e tre hanno passato abbastanza tempo in carcere per imparare che ogni azione ha una conseguenza è letteralmente impossibile rapire 26 bambini nasconderli sotto terra per 16 ore e farla franca voglio concludere il video ricordando le vittime di questo caso i bambini e Ed anche se questa è una storia a lieto fine perché sono tutti sopravvissuti non dobbiamo dimenticare che gli ostaggi soprattutto i più piccoli hanno subito dei traumi anche persistenti a fronte di ciò che è accaduto loro le loro vite in quel torrido giorno d'estate sono cambiate molti bambini hanno sviluppato tante paure come quella del buio e del vento altri hanno sofferto di attacchi di panico e ahimè anche di depressione la maggior parte dei bambini per molto tempo ha trascorso notti agitate da terribili incubi che lasciavano riaffiorare i brutti ricordi del rapimento oggi molti di quei ragazzini sono degli adulti che purtroppo continuano ad accusare alcuni dei sintomi descritti per fortuna buona parte di loro è comunque riuscita a condurre una vita sana anche se non si conoscono tutte le identità degli ostaggi negli anni alcuni di loro si sono fatti avanti e sono stati intervestati in diversi documentari ripercorrendo la loro esperienza e rivelando l'effetto duraturo dei traumi subiti incluso Mike Mike purtroppo dopo il drammatico episodio ha avuto una vita difficile ha sofferto moltissimo ma ora sta meglio sembra sia felice e io sono molto felice per lui Ed Ray l'autista dello scuolabus ha ricevuto un premio per l'eccezionale servizio reso alla comunità durante il rapimento tenendo tutti quei bambini al sicuro e in vita da allora è diventato l'eroe locale concludo con la speranza che tutti questi bambini oggi siano degli adulti che stanno bene che conducono una vita soddisfacente e felice mi auguro che siano riusciti a trovare la pace interiore e questo ci porta alla fine del video di oggi sono molto molto curiosa di sapere se conoscevate questo caso e quali sono le vostre opinioni in merito a questo caso quindi come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti io nel frattempo vi ricordo che se volete aprire o gestire la partita IVA potete richiedere una consulenza fiscale completamente gratuita e senza impegno con Fiscozen dal link in descrizione un consulente vi chiamerà e risponderà a tutte le vostre domande se deciderete di proseguire avrete anche 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento e a questo punto io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.